Musica Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il Filo Diretto. Questa volta siamo a Nocera Superiore, siamo nell'Aula Consiliare del Municipio, con noi c'è il Sindaco Giovanni Maria Cuofano. Probabilmente abbiamo scelto quest'Aula non solo per cambiare un po' scenografia, ma anche perché qui tra poco, o meglio tra poco, tra qualche mese, il Consiglio Comunale cambierà, probabilmente cambierà o non cambierà il Sindaco, questo aspetterà a voi, e alla luce di tutto questo abbiamo immaginato di farla in quest'Aula Consiliare. Ovviamente il Sindaco che salutiamo immagina e ha il suo ottimismo di essere ancora lui il Sindaco per la prossima Consiliatura, ma lei si candida Sindaco? Sì, sono candidato e mi onoro di avere accanto a me la squadra uscente di Governo della città e quanti in questi mesi si stanno avvicinando al nostro progetto civico-amministrativo. Credo che sia giusto che a seguito dei cinque anni nei quali abbiamo offerto alla nostra città ai nostri concittadini un'idea, una visione di Paese ed un programma, valutare se i nostri concittadini abbiano apprezzato o meno il percorso fino ad oggi intrapreso. Allora, incominciamo a immaginare le cose che lei ha fatto e vorrà continuare a fare. Ovviamente è una città che in questi anni, lo dico io, da non nocerino di nocera superiore, girando per la sua città, mi rendo conto che qualcosa è cambiato, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici. Le cose fatte sono tante, ma ancora da fare ce ne sono? C'è un lavoro in mane dietro i lavori pubblici, ma la prima attività che noi abbiamo compiuto all'insediamento è stata quella di offrire alla città una programmazione chiara, una pianificazione efficace che potesse consentirci di dare avvio a una serie di lavori, tra i quali una serie di interventi di riqualificazione urbana che la nostra città sta vivendo, seppur con qualche disagio perché inevitabilmente chiediamo scusa ai nostri concittadini per qualche inconveniente o qualche disagio che stanno subendo per i lavori in corso, ma diversamente non potevamo operare sui nostri territori. Sappiamo però che al termine di questi lavori, e tra poco procederemo a consegnare anche una parte dei lavori, una parte già l'abbiamo consegnata, al termine dei lavori avremo delle zone effettivamente di grande qualità urbana, ma l'intervento che noi andiamo a fare non mira soltanto a riqualificare il tratto interessato, ma a creare appeal nella nostra città, perché una zona che viene aggiornata in termini di efficientamento energetico, in termini di arredo urbano, è una zona che inevitabilmente può attrarre anche cittadini, avventori, quanti vorranno recarsi sul nostro territorio. Insieme però ai lavori pubblici, dei quali parleremo nel dettaglio, molto teniamo al piano urbanistico comunale, una sfida che la nostra amministrazione ha portato avanti nel tempo, abbiamo adottato, approvato il piano urbanistico comunale e cominciamo a mettere in cantiere una serie di pianificazioni grandi, importanti, che recupereranno parti considerevoli del nostro territorio. Penso alla zona di Via delle Libertà, all'altezza di Pecorari, dove avremo una grande riqualificazione urbana, penso all'area dell'Exas Riv di Materdomini, che finalmente vedrà dismessa quella fabbrica abbandonata, in rirata dignità ad un'area ai piedi del santuario di Materdomini, penso alla ex vetreria Villani, che insieme ai lavori oggi in corso sulla zona di Taverne Croce daranno nuovo lustro a questa altra parte del nostro territorio comunale, quindi c'è un lavoro in mane, a volte poi la fatica è tanta, non sempre percepibile, perché ci sono delle attività immateriali che gli amministratori devono compiere, come preparare atti, deliberare, pianificare, incontrarsi con i soggetti interessati, e questa è la parte non visibile, ma poi c'è la soddisfazione di vedere una visione di città avviata alla sua realizzazione. Probabilmente la parte non visibile è quella più faticosa. Sì, è quella più faticosa perché dietro un'opera pubblica non c'è la chiamata diretta di un'impresa, non c'è la possibilità il giorno dopo di partire, ma c'è la necessità di far scandire i tempi di un appalto, di una giurica, di una gara e quindi questi tempi a volte dilatano l'inizio di un lavoro. Fortunatamente noi siamo nella fase operativa, esecutiva, che, ripeto, siamo quasi alla consegna dei lavori, quindi siamo a un buon punto. Questa sua battuta mi consente di fare una disgressione. Proprio ieri sera sentivo un'intervista, parliamo del Governo, Governo nazionale, che tra le cose che vorranno fare c'è anche quello di modificare e ridurre la burocrazia per quanto riguarda le gare d'appalto, perché si sono accorti che sì, c'è un maggior controllo, ma probabilmente c'è un grande rallentamento. Lei che è amministratore di una città, ha notato che effettivamente bisogna sveltire un po' le pratiche burocratiche per quanto riguarda gli appalti, pur ovviamente mantenendo il controllo per rischiose infiltrazioni? La semplificazione amministrativa è l'auspicio di ogni Governo che si insedia, quindi noi speriamo come amministratori locali che troviamo calate su di noi queste norme che possa effettivamente arrivarsi a uno snellimento normativo. Debo dire che sicuramente questo codice degli appalti, più che in sé il codice degli appalti, è più che la burocrazia in sé, sono forse le persone fisiche preposte negli uffici a fare delle attività che andrebbero formati e aggiornati, perché a volte diventa anche un leitmotiv parlare del codice degli appalti, parlare della semplificazione, quando poi basta leggere le norme e comprendere che forse se le persone fisiche che sono deputate in alcuni uffici a fare il loro lavoro, se lo facessero meglio, credo che già questo garantirebbe un'efficienza maggiore per i nostri concittadini. Poi sicuramente c'è qualche norma da modificare, ma c'è soprattutto un dato, il fatto che le imprese vanno messe nelle condizioni di formarsi, anche le imprese, perché se giustamente un datore di lavoro, un'impresa, un lavoratore è abituato a fare il suo mestiere, sicuramente non si dedica alla parte cartacea che spesso lo coinvolge e quindi credo che bisognerebbe attivare una sinergia anche con le imprese per far sì che possano avere le informazioni adeguate e giuste per potersi iscrivere dove è richiesto e poter partecipare liberamente alle gare, altrimenti diventa un circuito chiuso per cui alle gare partecipano sempre gli stessi. Lei mi stimola a fare altre domande, ma dunque è vero che l'amministrazione in una città, in un ministero, la fanno gli uffici e non tanto gli amministratori barra politici? No, la fanno anche gli amministratori barra politici perché se loro non organizzano gli uffici questi non sono in grado di lavorare. Penso ai nostri uffici. Noi quando siamo arrivati qui nel 2014 non avevamo lo stato di efficienza e di qualità che oggi viene garantito e ringrazio il nostro personale, dai operai ai dipendenti, ai funzionari che si sono messi in riga con l'indirizzo politico che noi abbiamo dato. Ci sono degli uffici che noi abbiamo scompaginato, riorganizzato completamente. Penso all'urbanistica, penso alla riorganizzazione degli uffici politiche sociali, penso ai lavori pubblici che erano fermi e che siamo riusciti a mettere in moto, a far camminare e con questi uffici a programmare una serie di investimenti per il nostro territorio. Quindi la politica serve per dare l'indirizzo adeguato agli uffici perché noi confondiamo spesso l'indirizzo politico che va dato con l'interferenza nelle procedure. Quello no perché è illegale e non va fatto, ma dare il giusto impulso perché le azioni e le attività siano veloci, siano efficienti, questo sì va fatto. Quindi io credo molto nel fatto che non è la norma in sé che ci danneggia, ma quanto le persone preposte ad applicare quelle norme. Un altro suo impegno e l'ho notato per il mio lavoro è quello delle scuole, le scuole laddove ovviamente l'amministrazione comunale ha la sua, su cui gravita, cioè le elementari io le chiamo ancora elementari e medie, non come le chiamano oggi primarie, secondarie perché mi confondo, figuriamoci l'opinione pubblica. Comunque a parte questa battuta mia, la scuola Settembrini, c'è un grosso impegno dell'amministrazione comunale sulla scuola Settembrini? Non è solo la scuola Settembrini, ma come in tutte le cose della nostra vita umana e la frenesia dei nostri tempi, fatta una cosa si pensa subito a quella successiva, perché ricordiamoci della scuola di Porta Romana, che quando abbiamo iniziato nessuno credeva che la portavamo a realizzazione, perché era una struttura vetusta, fatiscente, abbandonata da circa un quarantennio, poco più, e lì è stato un grande lavoro, il lavoro di consegnare una scuola, di dismettere dei fitti passivi che erano a carico della nostra collettività, e lì è stato un impegno che la nostra amministrazione ha voluto assumere come patto d'onore con i propri concittadini, perché credo che quando un'amministrazione scrive un programma elettorale, poi deve fare in modo di rispettare quello che dice. E quindi noi non guardiamo solo alla Settembrini, guardiamo a quello che già è stato fatto, che per noi è già superato, seppur non era facile, ripeto, quando abbiamo messo mano a questi interventi, penso alle manutenzioni sulle altre scuole, sugli altri plessi scolastici, penso agli interventi fatti alla palestra della Marco Polo, dove adesso abbiamo un ulteriore intervento su tutta la struttura, penso alla San Giovanni Bosco, anche lì abbiamo messo mano sulla parte palestra, che oggi viene utilizzata anche dalle associazioni del nostro territorio, e adesso alla Settembrini, che è un lavoro in corso di adeguamento sismico, di ristrutturazione, con un intervento anche che io cito spesso, perché credo che sia bello e sarà bello da vedere, cioè l'elemento del tetto giardino, ma oltre all'elemento estetico, il dato principale è il fatto che abbiamo messo sulle scuole per dare più sicurezza ai bambini che frequentano le nostre scuole e per dare meno preoccupazione ai genitori, che essendo impegnati già dalla mattina alla sera a portare avanti le loro famiglie, non devono avere preoccupazione quando i bambini le mettono nelle mani di un ente pubblico, in questo caso di un comune, e quindi devono andare a scuola con serenità e tranquillità. La Settembrini, lo dicevo prima, è un intervento di grande qualità, lì stiamo rifacendo anche la palestra, abbiamo in corso il lavoro, l'impresa sta procedendo in maniera spedita, perché noi contiamo per l'anno nuovo, non so se riusciamo a farlo entro maggio o subito dopo, di consegnare anche quest'altro lavoro. Sicuramente possiamo sincerare i nostri concittadini del fatto che l'anno scolastico venturo sarà svolto all'interno della scuola Luigi Settembrini. Io credo che quando, come in tutti i lavori del resto, quando un'amministrazione comunale si trova a avere a che fare con dei problemi ci mette anche un po' di fantasia. Mi riferisco al cimitero, tra pochi giorni ci sarà la ricorrenza dei defunti e come al cimitero avete, l'avete scritto voi in un comunicato stampa, avete un impianto elettrico obsoleto che penso che metterete mano anche a questo, vi siete inventati delle installazioni, delle maxi croci per far sì che poi ovviamente ogni cittadino non potrà accedere alla rete ma potrà mettere una cosiddetta installazione a batteria. Come è venuta questa idea di grandi croci a ogni incrocio del Camposanto? Ma in realtà discutendo, e questo è avvenuto con il grande contributo anche del nostro segretario generale che frequentando anche il cimitero di città limitrofele nostre, io mi crucciavo e riflettevamo su quale possibilità avere per poter omaggiare la memoria dei nostri defunti non potendo consentire al singolo cittadino di allacciarsi sull'impianto elettrico vetusto e anche su questo, anche sul cimitero, perché poi le cose le dimentichiamo ma non bisogna dimenticarle, noi anche sul cimitero abbiamo messo mano perché dall'anno scorso ne siamo rientrati in possesso, prima c'era un affidamento a terzi dell'impianto, un impianto vetusto, abbandonato rispetto al quale essendo una cifra enorme non siamo riusciti già a mettere mano, sono 250 mila euro, l'anno scorso che è il primo anno nel quale noi siamo subentrati come gestione abbiamo tentato di vedere che sistemazione potevamo fare, dopodiché per motivi di sicurezza noi non eravamo in grado di spendere l'intera cifra nell'arco già dell'anno scorso e quindi ci siamo dati più anni per intervenire sul cimitero perché è una spesa importante e come nelle famiglie si fa le scelte su come spendere i propri soldi, noi avendo in campo una serie di attività dall'edilizia scolastica ai lavori pubblici ad altri interventi, dovendo scegliere una serie di interventi a farsi abbiamo preferito investire su altro al momento e dilatare, dilazionare invece gli investimenti sul cimitero perché siamo in grado di poterli dilatare e quindi abbiamo immaginato di procedere con queste installazioni di croce grandi circa due metri per ogni viale del cimitero che è un nostro omaggio, un omaggio dell'amministrazione e dei defunti. Poi però chi vorrà comunque onorare un proprio defunto affiggendo, installando vicino all'oculo una luce lo potrà fare ma solo con quella batteria perché non può allacciarsi purtroppo sull'impianto elettrico principale. Parliamo adesso dell'ambiente, spesso dal suo ufficio stampa ci arrivano notizie che è stato bloccato Tizio perché sversava cose che non poteva sversare oppure Caio che buttava dei mobili eccetera è un controllo continuo quello che fate? Un controllo continuo è un'insistenza perché pensiamo che bisogna avere rispetto per i tanti cittadini che conferiscono regolarmente, che pagano regolarmente la Tari e quindi noi lo dobbiamo fare per la stragrande maggioranza di cittadini di Nocera Superiore che conferiscono regolarmente e lo fanno oramai da circa quattro anni. D'altronde i numeri della differenziata parlano chiaro, noi siamo oltre il 75% di raccolta differenziata e questo è positivo. Non è positivo che una minoranza creda di avere in ostaggio una maggioranza, questo non lo tolleriamo e quindi sollecitiamo spesso il nostro comando di Polizia Municipale ad operare. Il nostro comando di Polizia Municipale che opera però a numero ridotto, quindi anche lì dovremmo mettere mano nei prossimi mesi e nei prossimi anni per la riorganizzazione del comando di Polizia Municipale che va messo in condizioni di lavorare, rimpinguandolo anche di risorse umane, abbiamo nel fabbisogno del personale previsto una serie di unità che dovrebbero incrementare il comando di Polizia Municipale per avere maggiori controlli sul territorio, al comando noi stiamo organizzando anche una nuova struttura deputata alle loro funzioni che è l'ex mattatoio comunale, lì abbiamo la gara d'appalto in corso presso la CUC di Bellizzi che sta in fase istruttoria e quindi credo che tra qualche mese potremo comunicare anche l'inizio dei lavori del mattatoio che ospiterà il comando di Polizia Municipale, quindi una struttura nuova e con la struttura nuova dobbiamo anche rifondare le risorse umane che compongono il comando di Polizia Municipale. Ci teniamo molto ai controlli sul territorio, lo stiamo facendo anche in borghese, quindi avvisiamo i nostri concittadini che sono tenuti sotto controllo anche da agenti che girano in borghese, perché mantenere pulita la città è un segno di civiltà e tutti dobbiamo adoperarci perché ciò avvenga e venga rispettato questo patto tra cittadini. E in corso leggo un avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo della consulta, per far nascere la consulta delle associazioni, che cos'è? No, in realtà la consulta è già istituita, l'abbiamo già deliberata, è stata anche nominata, infatti abbiamo avuto una prima riunione. La consulta delle associazioni serve da supporto all'amministrazione comunale per poter decidere insieme e concordare come organizzare degli eventi, come promuovere iniziative sul territorio, quindi passiamo dall'abitudine costante Sport diffuso nazionale dell'alimentazione a un contributo fattivo di tante associazioni che operano nel silenzio e noi piuttosto che lasciarle nel silenzio della propria associazione abbiamo preferito istituzionalizzarle in questo strumento della consulta. Abbiamo già avuto, come dicevo prima, un primo incontro, con loro stiamo coordinando una serie di attività che nel corso dell'anno si terranno sul nostro territorio. Mentre con Mario Marra venivamo qui da lei per questa intervista, siamo passati davanti al parco archeologico prima del Battistero e c'era un gruppo di, credo che era una scolaresca con gli insegnanti che stavano guardando e gli insegnanti che spiegava questi reperti archeologici. Come va da questo punto di vista la sua città che fonda proprio anche come il proprio nome, no? Nuceria 2020 che tanto clamore ha fatto. Va che abbiamo grandi difficoltà con la soprintendenza. L'altro ieri ho dovuto firmare una ordinanza per chiedere la pulizia di un'area di proprietà della soprintendenza, l'ex proprietà Trezza, a Pucciano, perché è un'area abbandonata e degradata e io ho dovuto firmare un'ordinanza per chiedere a un altro ente dello Stato di provvedere ad espletare i suoi compiti e ad adempiere ai suoi doveri di ufficio. Questa è una cosa grave che mi rammarica perché fa costatare una scarsa sensibilità di alcuni uffici preposti a svolgere delle attività. Però non ci fermiamo rispetto a questo, andiamo avanti e devo dire che uno degli interventi che nella nuova pianificazione è previsto è anche la riqualificazione della necropoli di Pizzone perché lì verrà realizzata una struttura ricettiva al posto di quello scheletro abbandonato ai piedi della necropoli e verrà riqualificato tutto lo scavo della necropoli. Siamo a buon punto con la presentazione della progettazione esecutiva perché poi il privato anche lì potrà mettere mano e credo che a breve, se non entro dicembre, presenteremo anche i progetti ai nostri concittadini per spiegare come queste aree verranno riqualificate con il contributo pubblico-privato perché il nostro piano urbanistico che si è fondato sulla perequazione urbanistica fa sì che il privato realizzi quello che deve realizzare ma non a discapito della collettività che deve vedersi garantiti i suoi standard i suoi servizi e la sua qualità della vita. Dicevo questo come inciso per spiegare che noi sui beni archeologici nonostante l'inerzia della soprintendenza e questa è una denuncia che io faccio pubblicamente stiamo procedendo con grande sforzo perché poi giustamente il cittadino scrive al sindaco e dice sindaco ma quest'area è abbandonata piuttosto che altro e questo mi rammarica, ripeto, perché lo Stato dovrebbe collaborare con lealtà, le sue istituzioni dovrebbero collaborare con lealtà, non sempre questo avviene ma ce ne facciamo noi carico perché siamo abituati a farcene carico. Un altro intervento invece che abbiamo in corso col completamento dell'opera di Pareti perché oltre alla riqualificazione e all'efficientamento energetico lì stiamo facendo il viale in cocciopesto che consentirà di avere una visuale sul teatro di Pareti che sarà un primo intervento prima di fare l'accesso al teatro di Pareti dove purtroppo dobbiamo sederci per forza con la soprintendenza perché gli espropi lì sono gestiti dalla soprintendenza. Quindi sulla archeologia stiamo lavorando, stiamo lavorando in maniera fattiva non attraverso convegni che lasciano il tempo che trovano ma attraverso un'azione forte, efficace, di resistenza anche se vogliamo psicologica non demordere per riqualificare gli scavi che risiedono sul territorio di Nocera Superiore. Siamo a un buon punto su una parte di interventi come dicevo ma c'è un grande lavoro da fare e noi non ci arrendiamo e lo porteremo avanti. D'altronde lei immagina questa Noceria 2020 quindi il tempo c'è anche se è poco insomma e le cose da fare sono tante. Bene, chiudiamo qui perché il tempo è davvero volato chiudiamo qui questo appuntamento con Giovanni Maria Cuofano il sindaco di Nocera Superiore abbiamo fatto questa panoramica sulle attività passate, presenti ma anche future. Grazie sindaco e grazie a voi telespettatori che ci avete seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.